Si chiama Megan McPartley, a 18 anni di età, è di Shirley, nel Lancashire. Ha fatto sapere la tragicissima esperienza di cui è stata protagonista, affinché altre donne sappiano ciò che c'è da sapere e da conoscere. La fanciola in questione, infatti, sarebbe stata picchiata in maniera brutale dall'amato fidanzato e le avrebbe fracassato la scatola cranica fino a addirittura perforarle il cervello. La ragazza ovviamente è rimasta malissimo, sta malissimo, e ha deciso di denunciare il tutto attraverso Facebook, il social network per eccellenza del buon Mark Zuckerberg. E ha scritto un lunghissimo post in cui si è sfogata e ha cercato di mettere in guardia le donne che purtroppo sono vittime impotenti della furia, della cattiveria, degli uomini o meglio dei fidanzati o meglio dei mariti. E avrebbe fatto sapere che gli ha letteralmente perforato il cervello. Una storia tragica, triste, che ci fa capire quanto sia importante parlare, non tenersi tutto dentro, e la ragazza ha voluto fare questo affinché qualcuno si sveglia e capisca che effettivamente parlando non si può andare avanti così. Bisogna parlare, parlare e ancora parlare. Non nascondersi e non trincerarsi. Dieterlo ad un dito. Cari salutoni a voi, al vostro narratore italiano di YouTube Italia.